Una psicologa dedicata all'interno del reparto di pediatria del San Donato di Arezzo per fronteggiare le emergenze che arrivano, ci dice il direttore, il dottor Martini, tutti i giorni. Sono problematiche varie che vanno da cose abbastanza lievi ma non di poco conto, quali le crisi di panico, gli attacchi di ansia, cose ben più importanti come problematiche di autolesionismo, addirittura tentativi di suicidio purtroppo esistono anche queste situazioni qua. Per fronteggiare questa situazione c'è una psicologa in pianta stabile, un servizio frutto della collaborazione tra il Dipartimento Materno e Infantile e quello della salute mentale, tra le emergenze sempre più numerose, i disturbi alimentari. Stiamo parlando dell'anoressia soprattutto che colpisce soprattutto il sesso femminile ma non solo, in questo momento è passato una paziente proprio con queste problematiche. Inoltre il supporto psicologico è fondamentale in caso di diagnosi di malattie croniche come il diabete infantile e l'asma. Quindi capite una diagnosi importante con ricadute molto importanti dal punto di vista logistico ma anche proprio del vissuto psicologico della famiglia e delle pazienti e qui anche qui è di fondamentale importanza la figura dello psicologo dedicato. Ma in un'età così piccola, comunque ancora pediatrica, si lavora più sul paziente o sui genitori? Con entrambi, con entrambi. I due lavori non si possono, come ha detto lei giustamente, insomma in un'età così precoce sono due strade che non si possono dividere, quindi il lavoro si intersega.